La scuola di Via Taverna apre le proprie porte al quartiere e alle famiglie degli alunni che la frequentano attraverso il progetto Io vengo dalla Luna, un titolo scelto non a caso ma nato dall'intento di superare le differenze favorendo occasioni di incontro e di inclusione. Diverse le attività al centro del progetto, sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, tra cui il servizio di prescuola realizzato dagli educatori della cooperativa La Casa del Fanciullo. Abbiamo trovato una scuola anche molto vivace per cui è anche molto disponibile ad accogliere nuove idee, nuovi progetti, sono degli entusiasti questi insegnanti e anche il preside devo dire. I bambini mi sembrano molto recettivi quindi i progetti per il futuro non ci mancano le idee e quindi speriamo di andare avanti nella collaborazione e realizzare anche tante altre cose. Invece per quanto riguarda il prescuola, tante iniziative, la colazione multietnica e anche l'incontro con gli animali. Sì, sono delle bellissime iniziative, i bambini sono proprio contenti perché si può veramente vedere la loro gioia nella partecipazione a queste attività, hanno superato anche delle paure nei confronti degli animali e appunto attraverso la colazione multietnica vediamo cosa mangiano i bambini di diverse culture. Il servizio di prescuola coinvolge il 17% degli iscritti nella scuola dove il tasso di alunni stranieri è molto alto. Questo non è vero che è una scuola di stranieri, è una scuola che assorbe le famiglie, cioè gli alunni del quartiere che per la maggior parte sono anche alunni stranieri. Stiamo provando a riagganciare le famiglie italiane, però attraverso una qualificazione dell'offerta formativa. Ci si sta sforzando attraverso una progettazione ormai da qualche anno di far diventare la scuola taverna una sorta di civic center, cioè una scuola aperta al territorio, quindi non solo agli alunni che poi lo frequentano ma anche ai genitori e magari in un futuro anche agli anziani del quartiere. Anche in collaborazione con l'associazione del territorio come la Casa del Fanciullo o con altre associazioni con le quali si sta cercando di stringere dei partenariati.